Benvenuti a meteogiulianci.it, domani martedì 19 febbraio, bello su quasi tutta l'Italia, a parte un po' di nuvole sull'estremo sud, dove c'è ancora la coda della perturbazione giunta oggi. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete le pocole nuvole che interessano le regioni meridionali. Attenzione a quell'ammasso nuvoloso sull'Europa orientale, perché è un ammasso nuvoloso che accompagna quell'irruzione d'aria polare che poi tra giovedì e domenica porterà nevicate per quasi 96 ore su gran parte del nord Italia. Vediamo l'immagine successiva, il tempo che farà domani martedì, vedete bello su quasi tutta l'Italia, invece nuvole al sud, qualche pioggia sulla Puglia, sulla Calabria tirrenica e sul nord-est della Sicilia. Andiamo a vedere le temperature minime notturne, vedete gelate su gran parte del centro nord. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buon giorno.